La figlia di Romina Power e Albano Carrisi, in un video di qualche anno fa, mentre annuncia la sua seconda gravidanza, aspetta una femminuccia Il video a Marcord continua ad emozionare il grande pubblico, eccolo A loro sono le figlie dell'ex coppia d'oro del mondo dello spettacolo e della musica nostrana, ovvero quella formata da Albano Carrisi e Romina Power Una coppia che ha regalato tantissime emozioni e brani ancora oggi amatissimi e formato uno dei sodalizi artistici più famosi del nostro paese Stiamo parlando chiaramente di Cristel e Romina Junior Carrisi. Le due sorelle 36 anni la prima, 34 la seconda sono legatissime tra loro e, appena possibile, passano del tempo insieme, magari nella grandissima tenuta Carrisi di Papa Albano a Cellino San Marco, in Puglia Non di rado, le due rilasciano interviste insieme, ha accaduto diverse volte dall'amica di famiglia Mara Venier, negli studi di domenica in Come dimenticare, del resto, il grande annuncio che fece Cristel proprio nell'amato talk domenicale di Viale Mazzini, l'annuncio di Cristel Carrisi Cristel Carrisi, nel 2019, durante un'ospitata domenica in insieme a sua sorella Romina Junior Rivela quadrato di attendere una bambina In realtà, fu zia Mara ad annunciarlo al grande pubblico poiché ha diritti d'autore sino a quel momento la figlia di Albano e Romina non aveva fatto cenno Tanto ha bastato per mandare il grande pubblico in delirio Allora, Cristel Carrisi e suo marito l'imprenditore croato dei Vorliucaisi che avevano già un figlio, nato l'anno prima che i Tirone Tra l'imbarazzo e la commozione di Cristel Carrisi, Mara Venier disse, aspetta una femminuccia, scatenando i social Si tratta, dunque, della piccola Cassia Ilenia chiamata cosa in ricordo della sorella maggiore di Cristel, Ilenia Carrisi Nel 2021, la coppia avrà un altro bambino, Ines Rio La famiglia di Cristel e Deivor vive in Croazia, a Zagabria La vita privata delle sorelle Carrisi A distanza di qualche anno, le sorelle Carrisi hanno intrapreso due carriere molto diverse Romina Junior, ha continuato la sua ascesa nel piccolo schermo nostrano, divenendo uno dei punti fermi del cast degli Affetti Stabili, del tol condotto da Serena Bortone, oggi a un altro giorno, su Rai 1 Di recente, la figlia di Alvano e Romina, ha rivelato di essere stata scartata da Millie Carlucci a ballando con le stelle a causa della sua partecipazione quando aveva 18 anni ad un reality, ad ogni modo, Romina Junior Ha spiegato di voler tentare la strada delle conduzioni un giorno, in arrivo un programma tutto suo Staremo a vedere Cristel Carrisi, invece, sarebbe vicina a laurearsi in letteratura presso la prestigiosa facolta di Harvard, a Boston, negli Stati Uniti Non tutti sanno, infatti, che la figlia di Albano e Romina vanta un grandissimo percorso accademico Al momento non ha chiaro cosa farà in futuro ma, a quanto si vocifera, potrebbe continuare la sua carriera come ricercatrice Staremo a vedere 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 Grazie.